Eccoci qui amici, Canale 2 c'è dopo il Tg puntuali, come sempre arriviamo tutti i giorni alla solita ora, fascia pomeridiana, fascia serale, un saluto anche a chi ci ascolta su Canale 2 Radio, sappiamo che anche in radio abbiamo un numerosissimo pubblico che quotidianamente ci segue. Oggi si conclude con quella di oggi la serie di puntate di questa settimana, e siamo un po' tristi, no, non siamo tristi, anzi oggi vediamo, considerando che è il giorno 2 novembre, insomma c'è la commemorazione dei defunti e un po' di contegno dobbiamo averlo, però vogliamo passare una giornata diversa, vi presento l'ospite che abbiamo qui in studio con noi. Facciamo così, vediamo se mi riconoscono dalla voce. Io penso che ti hanno già riconosciuto, dai, dacci qualche indizio, apri due dita. Sono un uomo, non ho capelli, vabbè sono... È lui. Che coglione. È il nostro supereroe che coglione. Nicola Calia. Nicola Calia. Sono senza mantello, senza tutina, sono in versione umana. È vero, noi non ti abbiamo mai ospitato in studio vestito. Mi fa piacere, mi fa piacere, sai così, salire le scale qui diciamo per arrivare alla redazione sarebbe un po' particolare. Poi mi chiedono salvataggi, scusa mi sono bloccato l'ascensore, mi salvi. E qui è facile beccare qualcuno, perché nel nostro condominio sai, ogni tanto l'ascensore si blocca e... Ho detto l'ascensore ma posso fare anche altri tipi di salvataggi. Cioè io vado dalla chiusura del buco nell'ozono a che ne sono? A questo del buco dell'ozono non lo sapevo, ce ne vuoi parlare. Quindi noi siamo ignari dei tuoi interventi, quindi noi terrestri non sappiamo nulla di tutti i tuoi interventi. No vabbè, noi supereroi abbiamo una scala di salvataggi, io posso salvare file sul computer o che mi guardi con una faccia seria. Sta degenerando già dall'inizio questa puntata di Canale 2G. E posso anche fare piccole cose, aiutare la vecchietta ad attraversare la strada. Però vabbè... Anime perse non c'è ancora provato. Ma no vabbè, se arrivano chiamate io poi faccio quello che mi viene chiesto. Ma per contattare un supereroe, voi perché siete tanti, no? C'è Superman anche, Batman. Batman è l'altro pugliese come me, perché molti non lo sanno che sono fatto. Batman sai perché si chiama così? No. Per darsi un tono, perché lui sarebbe l'uomo della Bat, perché Bat di Barletta. Allora Batman perché sarebbe, suonerebbe, ma l'uomo della Bat. È giusto. Ecco volevo completare la domanda, ma avete un numero, avete un numero di telefono dove contattarvi? Io ho il mio profilo Facebook, Michola Calia, poi c'è la pagina, che coglione. E quindi uno chiede aiuto e tu intervieni. Se lo leggo subito posso intervenire. Se lo leggo due giorni dopo, perché certe volte capita, magari interviene qualcun altro, se no si attacca. Senti tu, diciamo, fra le ultime produzioni ce n'era una simpatica amore pattumiera, no? I primi giorni della differenziata, Altamura nel caos totale, la gente che voleva ancora buttare le buste dell'immondizia nel cassonetto che non c'era più. Poi insomma adesso la città, insomma, pare che si stia muovendo in una certa direzione. I risultati vedono Altamura oltre il 70%, quindi diciamo i cittadini differenziano. Però, avete visto anche alcune rubriche nostre come quella di Emanuele Giordano, Chichi Ricchi, insomma, ci sono zone della città dove portano di tutto. Ancora si registra. Ruote del camion, una porta, una finestra, una lavatrice. E' perché forse hanno frainteso il porta a porta, uno pensa che deve portare la porta. Porta, porta. E invece la porta comunque la devi lasciare fuori. La porta la rende la porta. Ah, vabbè, abbiamo avuto grosse difficoltà nel passaggio, credo, dalla vecchia alla nuova tipologia di raccolta. Però credo che piano piano, in linea di massima, ci si stia mettendo in carreggiata. Sì, quel video... Beh, è stato un video di rana, ha avuto tantissime visualizzazioni. Pensa che mio figlio, che ha quasi quattro anni, quando sente per caso alla radio la canzone Amore e Capogliere, dice papà, amore e pattumiera, alla radio, è rimasto colpito da Nunzio, dal nostro amico Monodente, che esce dal cassonetto. Quella è stata l'immagine. Beh, quello è un video che hai fatto con due personaggi della nostra città, Nunzio, Monodente e Pierino, il re dei funghi, il Murgiano. A proposito di Pierino, saluto gli amici di Poggiorsini, di Canosa, di Bitretto, di Bitetto, di New York, che Pierino, quando fai i video... Sì, sì, lui saluta... ...dei video sono per i saluti... No, poi dopo tutto sto giro comincia a dire Mimmo, Nicola, Giovanni, Francesco, Peppino, eccetera eccetera... Parte prima, diciamo, con le località limitrofe. Adesso ha cambiato vettura, non c'è più il furgoncino Focaccia Blues. Non l'ho visto con un altro furgoncino, eh. Si è evoluto probabilmente. Ah, no, non ho ancora avuto la fortuna di incontrarlo col furgoncino. Il vecchio non è andato perché era proprio malandato. Noi l'abbiamo usato per girare con lui uno spot pubblicitario un paio d'anni fa, tre anni fa, due o tre anni fa, dove invitavamo la gente a differenziare. Pierino si prestò gentilmente alla produzione di questo spot e ci divertimo, insomma. E io ho guidato il furgoncino Focaccia Blues che mandammo il backstage, anche in onda, facciamo vedere, tutti in retroscena della registrazione. Pierino, avvisa quando cambi mezzo di locomozione, vabbè, lo andrò a trovare. Vabbè, questi giorni penso che sia l'urimpegnato perché periodo di funghi, poi ansia. Spuntano funghi come funghi. Qua vedo sui social, postano tutti, beh, belle foto. Sì? Allora, chi ha preso un chilo, chi due chili, chi tre chili, quindi la murgia sta dando funghi. Eh beh, io non mi sono ancora cimentato con la raccolta di funghi, ma a tavola però ho iniziato già ad assaporare. E vabbè, non bisogna perdere tempo con i funghi. È il momento, è il periodo, se no li mangiamo adesso quando dobbiamo mangiarli. Si potrebbe in estate, ma quelli sono altri funghi, quando ti vengono dietro la schiena in piscina, ma quelli non si mangiano. Non si mangiano. Non si mostrano solo. Senti, a proposito, parliamo un po' del tuo personaggio. Poi entriamo pian piano nella trasmissione. Felice, questa è una tua trasmissione, tu puoi guidarmi dove vuoi. A me piace andare molto, diciamo, a pelle, a sensazione, anche perché molti... A livello di pelle abbiamo... No, molti mi vedono guardare, è sempre un foglio. Allora, ve lo faccio vedere. C'ho scritto solamente Nicola Calia, che colione supereroe. Non c'ho scritto nient'altro qua, quindi no, no, perché... Che poi ce l'ha bisogno pure di scriverlo questo. Ma no, è giusto. Ma cosa leggi? Ti sei preparato? Non ho preparato nessuna scaletta. Non c'è trucco, non c'è inganno, perché magari uno dice, no, con le mani Felice copre. No, guardate, questo è il foglio in bianco. Quella che vedete è la mia testa. Quindi, se vedete, diciamo, notate che io guardo il foglio durante la trasmissione, non leggo nulla, è l'abitudine di noi giornalisti, perché, insomma, siamo abituati come se avessimo, diciamo, un foglio, qualcosa che si... Non c'è scritto nulla, quindi andiamo a pelle, andiamo. Infatti, è tutto vero, come direbbe Pierino. Cosa è cambiato nella tua vita? Da quando Nicola Calia ha lasciato i villaggi, ha lasciato, diciamo, il mondo dell'animazione e ha deciso di diventare, che coglione, supereroe. Che coglione lo sono sempre stato, cioè me l'hanno sempre detto, che coglione che sei. Però, no, il passaggio dai villaggi alla realtà altamurana è passato prima di tutto per il matrimonio. Il matrimonio è stato il passaggio, diciamo, fondamentale che ha sancito la mia fine della carriera villaggistica. Scusami, adesso non vorrei malignare, ma dopo esserti sposato hai deciso di cambiare il tuo nome in che coglione. No, no, no. Ah, quindi la escludiamo. Una volta che mi sono fermato, mi sono sposato, il primo figlio, ho detto, mi piacerebbe continuare a fare in città. No, come molti si pentono del matrimonio, ma chi me l'ha fatta fare? È stata una cosa rafforzativa. Però quando, diciamo, ho deciso di mettere una fine alla carriera villaggistica, che mi ha visto protagonista per 15 anni in giro per il mondo, Maldive, Cuba, Turchia, Tunisia, Marocco, Egitto e anche Puglia. Sembro Pierino quando saluta gli amici di New York, poi ho Stuni, Marini, vabbè, mi sono divertito parecchio. Poi quello è un lavoro che puoi fare, credo, finché non ti muova la passione, finché non ti diverti. Perché poi dopo, se inizia a non piacerti più e lo inizia a vedere come un lavoro, è il lavoro più massacrante del mondo. Quindi è arrivato alla soglia dei 30 anni, 32, mi ricordo di preciso, ho abbandonato i villaggi, sono tornato nella mia cittanatia, ho voluto, diciamo, provare a fare qualcosa inerente a quello che avevo sempre fatto, anche in città. C'era un casting a Bari per Zelig e lo slogan, il motto era Nuovo Checco Zalone Cercasi. Allora lì ho pensato al mio personaggio da supereroe, che prima era Super Nicola, e l'ho riadattato in chiave, casting Zelig, con lo slogan Nuovo Checco Zalone Cercasi. Mi sono presentato dicendo che sono il cugino di Checco Zalone, cugino da parte di madre, quindi mi chiamo Checco Oglione, eccetera, eccetera. E da lì poi è iniziato questo percorso. E che mi ha portato oggi ad essere qui. Addirittura, addirittura, vai. Volevo fare il riassunto delle ultime puntate, saltando un po' di anni. Da gennaio ritorno in tv con avanti un altro, ritorno ad essere supereroe, quindi non più sindaco. Perché tu hai fatto anche il sindaco al fresco. Ho fatto sì, il sindaco dietro le sbarre. In quelle giornate caldissime di 40 gradi. Sì, sì. Ovviamente l'ispirazione inconsciamente è nata dalle vicissitudini locali, però poi nel programma con Bonoli, se ero il sindaco. Vabbè, nella satira sappiamo che a volte non c'è nulla di personaggio. No, assolutamente. La satira va vista un po' con leggerezza, anche perché nella storia i giullari, per esempio, che andavano a corte, erano gli unici autorizzati a dire al re o ai nobili di tutto e di più. Cosa che il popolo non poteva assolutamente fare. Perché l'ha detto, diciamo, il giullari. E quindi, se vogliamo, è una cosa che si ripete nel tempo degli anni. Però oggi sono cambiate le cose, perché oggi ti cancellano da Facebook, ti bloccano. Ti bloccano il profilo. Se dici, che ne so, prima facevo l'imitazione del sindaco, tutti quelli di una fazione, e gli altri ti cancellavano. Oggi esprimi le tue opinioni in un'altra direzione. Quelli che ridevano prima, oggi ti cancellano. E' tutto, diciamo, un circolo che, comunque, la satira ancora, forse ancora non siamo pronti a questa, diciamo... Tu, comunque, hai un tipo di comicità tutta tua, insomma, ti sei ritagliato un po'. Del resto, Batman ci fa capire il livello, diciamo... E' l'uomo della batti. E' il campanello dall'arco. E' l'uomo della batti. Io non mi sono mai permesso di copiare, rubare battute altrui, o anche trarre ispirazione. Poi, magari, inconsciamente, può essere che, nella mia comicità, uno possa ritrovare, che ne so, qualcosa di Emilio Solfrizzi di Chiavic, piuttosto che di, che ne so, che Cozzaluno, ma non lo so, se c'è è inconscio. Quindi non mi sono mai... Non c'è plagio. No, 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 non c'è plagio. Non c'è neanche un tentativo di imitare un personaggio piuttosto che l'altro. E' semplicemente un periodo storico in cui, dalla Puglia, vengono fuori, fortunatamente, un bel po' di comici, di personaggi. Perché, oltre, che ne so, Emilio Solfrizzi è stato forse il precursore, poi è arrivato Luca Medici, Checco Zalone, Pio Amedeo. Diciamo, ce ne sono parecchi. Prima si puntava più su un napoletano, adesso il napoletano... Lui l'unico è stato Lino Banfi a tenere un po' alta. Lino Banfi, sì, sì, va bene, è stato. Gianni Ciardo. Beh, insomma, adesso c'è un nuovo gruppo, c'è anche il figlio di Gianni Ciardo, Renato, con la Rimbambente, insomma, un bel gruppo. Assolutamente. Raffaello Tullo, il fondatore e mente geniale della Rimbambente, è stato mio collega nei villaggi, siamo stati capo animatori in Valtour, tanto si può fare pubblicità anche perché è fallita ora la Valtour, per tanti anni. Poi lui ha avuto questa idea di mettere su questa banda di pazzi e io mi sono messo in proprio, diciamo. Allora, entriamo poi in quelli che sono i tuoi programmi, ci hai parlato, insomma, hai detto che da gennaio ritorni alla trasmissione su Mediaset avanti un altro, e quindi sarai lì nel salottino dei personaggi che il pubblico di volta in volta decide di chiamare. Non parliamo del programma di Bonolis. No, anche perché, insomma... C'è scritto qui, non parlare... C'è scritto qui, non parlare del programma di Bonolis, no, assolutamente. Parliamo invece di una iniziativa che hai deciso di mettere su e che, insomma, è fresca, credo, il 15 di novembre. Il 15 novembre si parte con questa bella avventura. Ecco, ci vuoi parlare di questa avventura, di cosa si tratta, come funziona, se c'è ancora tempo, magari qualcuno ascolta, si vuole iscrivere. E credo che sia la prima volta, dico credo per non peccare di eccessiva sicurezza, ma ne sono convinto, credo che sia la prima volta per la nostra città in cui viene creato un laboratorio di cabaret. Un laboratorio, che cos'è un laboratorio di cabaret? Intanto, vabbè, si inizia, vi do qualche informazione così random, si inizia il 15 novembre al Cumanà, che è un club, diciamo, privato in via Santeramo, e ogni due settimane, quindi un giovedì sì e un giovedì no, ci sarà questa serata. In cosa consiste? Il laboratorio di cabaret è qualcosa in cui i comici provano e testano con un pubblico reale. Un po' la zeli goff. Certo, assolutamente. Sono praticamente delle serate in cui i comici testano dei nuovi pezzi, perché noi comici ci mettiamo lì davanti a un foglio bianco come questo, cerchiamo di trarre ispirazione e scriviamo pezzi, monologhi, battute che possono per noi funzionare. Però un comico, quando le legge, magari dice, beh, sì, questa mi piace, eccetera, eccetera. Però finché non la provi, una battuta, con il pubblico e non testi proprio il riscontro, se c'è la risata, l'applauso, eccetera, eccetera, non puoi essere così sicuro da portarlo poi in un teatro vero e proprio. A teatro solitamente o in una piazza si può... Un po' come vene in medicina, un laboratorio di ricerca sperimentale. Assolutamente. I test, come si fa anche, che ne so, con le autovetture. Ci sono i crash test, però si usano i manichini. Noi usiamo un pubblico vero che ha la possibilità di assistere a queste serate... Per fare i crash test, usi il pubblico del pubblico. No, no, per assistere a queste serate di camarè. Vediamo, se il pubblico ride, è bello, questa battuta ha funzionato, la confermo. Questa, no, differenziata, questa la buttiamo. E quindi comincerete il 15 di questo video. Il 15 novembre, siamo una trentina di comici nel giro, diciamo, di questo laboratorio. E allargato, Puglia, Basilicata. Puglia, Basilicata, Campania. C'è anche, ogni sera ci sarà anche un ospite d'eccezione che mi affiancherà nella conduzione. E non ci saranno ogni sera 30 comici sul palco, perché altrimenti sarebbe tipo Teleton. No, ogni serata ne convocheremo una decina. E quindi la serata durerà massimo un paio d'ore. Ovviamente assistere a teatro a una serata con tutti questi comici ti porterebbe, diciamo, un esborso superiore alle 20 euro. Invece il fatto di essere inserito in un contesto di laboratorio ti permette di avere, diciamo, un costo molto più basso. Fanno da cavia. Perché il pubblico fa da cavia, ma, diciamo, a fine serata c'è una certezza che il pubblico si dire... Torna a casa il pubblico. Torna a casa contentissimo. Fra crash test e cavia, insomma, io stiamo un po' spaventando. No, no, venite ragazzi, perché si ride, si ride assolutamente. Puoi non ridere a una battuta, però dopo due ore di alternanza di comici vari, eccetera, eccetera, le risate sono garantite e assicurate. Poi a differenza del teatro, dove comunque bisogna tenere un certo stile un po' più formale, il laboratorio, proprio, come dicevi tu, una situazione tipo Zelig Off, no? Il locale milanese, Zelig, in cui ci sono lì posti, tavolini, tutto molto raccolto. Fa sì che ci sia proprio un clima bello informale, bello caldo e simpatico. È un invito ufficialmente. Un progetto molto interessante. Insomma, siamo contenti di... Che nella nostra città ci sia questo fermento, questo movimento. Perché Altamura, poi, è una città che... Altamura ha sempre avuto laboratori di panificatori, di fare focaccia, però laboratori di cavare non ce ne sono mai stati. E poi, ovviamente, se c'è, noi faremo anche, sceglieremo una giornata per casting, per nuovi, magari, aspiranti comici, aspiranti talenti. Magari anche, se ci sta ascoltando, guardando da casa, qualche ragazzo alle prime armi, che magari risulta simpatico con gli amici, raccontando barzellette, eccetera, eccetera. È una buona base su cui poter lavorare. Quindi, apriamo anche a questa possibilità. Insieme a talenti già, diciamo, navigati... Quindi uno può, diciamo, scoprire con se stesso di avere una determinata predisposizione o una vocazione... Assolutamente. ...attraverso la barzelletta, mi vuoi dire questo? Vabbè, la barzelletta è un po' il primo test, diciamo, per capire se uno può essere portato o meno. Beh, se hai capacità di attrarre l'attenzione del tuo gruppo. No, assolutamente. Quindi, spesso, in ogni comitiva c'è il personaggio un po' più simpatico, che ama raccontare barzellette, fare imitazioni, eccetera, eccetera. Poi, non è che tutti questi barzellettieri hanno, diciamo, successo, hanno le capacità per continuare. Però, comunque, può essere una base che, inserita e messa, diciamo, in un contesto con autori, perché questo laboratorio, insieme a me, lo seguiranno anche degli autori di fama nazionale, come Alessio Tagliento, che è un autore milanese, che è uno degli autori dei pezzi comici più forti di molti comici, che abbiamo conosciuto a Zelig, oltre alla collaborazione di Riso Levante Cabaret, l'organizzatore del Festival di Martina Franca. Quindi, comunque, sarà una bellissima situazione. Ora, starei ore e ore qui a parlare, però... Beh, sulla tua pagina Facebook, comunque, c'è la possibilità di capire tutto. Comunque, il 15 novembre si parte con la prima serata, la prima data. Felice, tu sei stato ufficialmente invitato a co-condurre con me almeno una serata. Ah, vuoi che devo venire a condurre? Ma fammi capire, devo ridere o devo fare il presentatore serio? No, vabbè, tu devi fare il presentatore... Vabbè, qui, lo so, che sei un po' più serio, impostato... No, mi piace ridere. Eh, però, voglio dire, a te... A chi non piace ridere? Infatti, no, 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 mi farebbe piacere, in questo susseguirsi di conduttori, che ci saranno durante la stagione, di ospitare anche te. E sono sicuro che sarebbe una bellissima... Accetto questo tuo invito ufficiale. Felice ha aperto la busta, ha accettato l'invito. Ha aperto la busta, ha accettato l'invito. A proposito, Maria Di Filippi, molti la definiscono, diciamo, una che fa una tv trash, una tv un po'... Però c'è chi, invece, ci vede molto, diciamo, del sottile e dello strafino su quello che è fatto. Io non posso parlare male di Maria Di Filippi, anche perché io, non so se tu lo sai, non abbiamo parlato, io ho fatto anche il tronista. Prima io ho fatto il tronista. Lavoravo da troni, poi mi hanno licenziato e sono arrivato... No, scherzo. No, Maria Di Filippi l'ho conosciuta in una serata di avanti un altro speciale, avanti un altro di sera, e siamo stati dietro le quinte, hai modo di vedere, diciamo, una persona lì, è molto tranquilla, è molto umile, simpatica, disponibile. Fa una televisione, a volte trash, a volte un po' più artistica, amici, voglio dire, una cucina di talento. Personalmente ritengo che lei prende il mondo esterno, che non è il mondo che vuole raccontare la televisione, perché a volte la tv, diciamo, manipola un po' tutto. Lei prende il mondo esterno, lo proietta in televisione, no? Dobbiamo dire che fa televisione, un po' come ha cominciato a fare Costanzo, portando l'esterno in televisione e non la televisione in esterno. Ci sono molti attori che portano anche nei propri film situazioni, diciamo, paradossali. Lo stesso Bonolis, il programma, diciamo, avanti un altro, del quale faccio parte, può essere anche considerato a volte trash, perché comunque al giorno d'oggi è una realtà che piace, anche quella, poi ovviamente... I dati di ascolto magari hanno detto che va bene e quindi siamo avanti, l'endemol non è che sta lì a pettinare le bambole. A smacchiare i leopardi. Poi ovviamente l'importante è sapere, rendersi conto e avere, secondo me, anche quella umiltà, quella consapevolezza di saper anche ridere di certe situazioni, e non per forza guardare Quark, il mondo di Quark e Geo in Geo, cioè il mondo è fatto anche per sorridere, la vita è anche fatta per sorridere, credo. Beh, insomma, si vede... Non è che belle parole. Dalle rughe che fanno qui, insomma, vicino agli occhi, uno che sorride... Tu, per esempio, ne hai tanto, tu ne hai già riduto, vuol dire che hai riso tantissimo. Mi piace ridere, mi piace ridere e spero di poter ridere a lungo. Beh, insomma, è importante, perché anche ridere poi al di là di ogni cosa, dicono i medici che faccio anche bene. Va benissimo, va benissimo. Che poi, credo sia una cosa vera questa, cioè che per ridere si muovono molti meno muscoli rispetto a quanti se ne muovono per arrabbiarsi. Quindi si fa anche meno fatica a ridere, però c'è tanta gente che preferisce arrabbiarsi. No, dicono, faccia bene, ridere e anche piangere faccia bene, perché produciamo delle sostanze che rilassano il corpo. Guarda, ora uscirò fuori dal personaggio, però ti dico che stamattina, prima di venire qui, ho fatto il mio giretto, facciamo il cimitero, è un modo, il 2 novembre, almeno una volta all'anno. 2 novembre, sì, dobbiamo un po' meditare. È un momento in cui ti ritrovi, diciamo, da solo a pensare, a ricordare, eccetera, e quindi credo che ci stia anche lo sfogo, il pianto aiuta anche, e solo i veri uomini riescono a piangere, è vero? Sì, io devo dire che è vero, insomma, un uomo se non piange vuol dire che non ha il cuore, insomma. Eh, infatti, infatti. Ci si commuove per qualcosa che... Assolutamente. Io... Ti fa soffrire, piangi. Visto che ora ci stiamo aprendo, stiamo facendo, sembra tipo la vita è bella, la prima parte è comica, poi tocchiamo temi. Mia moglie mi prende in giro, perché quando andiamo al cinema, quando andavamo al cinema, perché adesso con due figli sembra diventato impossibile, lei non si commuoveva così facilmente, io invece riesco a commuovermi anche guardando un film comico. E non so perché, sono particolarmente sensibile, ed è un aspetto di me che pochi conoscono. Va bene, sono... Ti ho stupito con questa... No, 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 sono cose che fanno parte di ognuno di noi, ed è giusto che... Va bene, allora, Nicola... Nic ti stavo chiamando. Vabbè, puoi scrivere anche Nic. Nic, non ce l'ho scritto, scriviamo anche Nic con la K. Ma come vuoi, K, C... Io non l'ho scritto nello, posso scrivere felice. Scrive, felice. Se uno mi chiede... Cosa hai scritto? Cosa hai scritto sul foglio? Allora, io ho scritto Nic. E io ho scritto felice, che non vuol dire che io sono felice, perché c'è il film, chiedimi se sono felice. No, io sono Nicola, felice, e lui però felice è anche un aggettivo, felice, aggettivo... Aggettivo nominativo. Nominativo. Perché fa riferimento a un nome. Neutro. Neutro. Perché si può usare sia col maschile che col femminile. Esatto. Nella prossima puntata parleremo anche del verbo avere. Facciamo un po' di grammatica. Noi siamo la mamma, è teacher. Canale 2 serve anche a fare questo. The book is on the table. The pen is on the table too. Va bene, allora... Sarà contenta la mia professoressa di inglese. Io penso che a questo punto qualcuno abbia già preso il telecomando e ha detto... Ma già da prima, secondo me. I due stanno proprio male oggi, va bene. D'accordo, diciamo, comunque... Si scherza, si scherza. Una chiacchierata con il nostro amico Nicola Calia, con Cittadino, personaggio televisivo che, insomma, sta... Si è ritagliato, ecco, un percorso in questo mondo molto complesso che è quello della televisione. Ripreso da sabato scorso anche Bordocampo, Telenorba, vabbè, dove faccio l'inviato. Ho esordito con il derby Foggia-Lecce, 2-2, un bel derby scoppiettante. Mettete il bordo al campo, cioè... No, 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 il bordo al campo... La commissione sportiva io faccio l'inviato, diciamo, un po' particolare. Beh, Foggia è uno stadio, lo zaccheria di Foggia è molto bene. Lo zaccheria, sì, ma io non ci sono mai entrato. Io mi fermo sempre fuori dallo stadio e negli spogliatoi a fine partita, poi l'interdista, eccetera. Hai mangiato la pizzetta, la cosa, gli fanno un bel rinfresco a Foggia, eh? Eh, a Foggia ci sono i torcinelli, purché sarebbero i nostri innumeridi. I innumeridi, i torcinelli. Ma prima volta inizia, devi assaggiare i torcinelli, diciamo, ma cosa sono questi torcinelli? Arrivai lì, gli innumeridi, eccetera. E i torcinelli perché sono la torcinelli. C'è stata una guerra per due ore sul nome. Però l'hai mangiato, sono migliori nostri comunque. Migliori nostri, ovviamente. Sono migliori nostri. Ma veramente, tanto affoggia mica, ci vedono, ci vedono. Ah, certo, buoni anche i torcinelli. E appoggia pure a Manfredonia e appoggia pure. Va bene, è tutto cari amici, io vi ringrazio per essere stati fin qui, avete avuto la pazienza di seguirci, ringrazio l'ospite che è stato assieme a noi. Grazie a voi, grazie a te. Nicola Alcalia, Checco Lione, supereroe, e poi ho aggiunto anche Nick. Se ho scritto, rileggo. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Come sempre, solite fasce orarie, seguite sempre il canale 2, perché poi ci saranno un po' delle novità anche ai nostri palinsesti dal prossimo mese, già anche da novembre, ci sono delle novità delle quali con calma vi parleremo. Tutto, buon fine settimana, ci vediamo lunedì.